flash and blood in italia è morto c'è ancora qualcuno che organizza eventi di questo tcg e come si può approcciare un gioco simile nella nostra penisola se non c'è una community nel proprio circondario nel video di oggi troverete la risposta a queste domande signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale mesi fa è stato annunciato un nuovo prodotto di flash and blood da parte del professore del tolarian community college che vede proprio quest'ultimo protagonista con il suo deck allora da bravo studente quale sono ho cercato di reperire il prodotto che infine mi è stato fornito dai signori del golden store di roma giusto per avere finalmente un campione preferito da giocare nei vari match blitz al che ho iniziato a cercare qualcuno che giocasse effettivamente nella mia zona fab giusto per testare qualche dinamica visto che il mio stile di gioco risulta abbastanza arrugginito e quindi mi sono recato a grande inverno dove una volta entrato la situazione è stata la seguente non c'era letteralmente nessuno che giocasse allora senza perdermi d'animo mi sono diretto da loop game e la situazione non è cambiata molto quindi incuriosito da questa moria di combattenti ho chiesto spiegazioni ai titolari dei rispettivi negozi che all'unisono mi hanno risposto guarda qui flash and blood è morto ma come morto possibile che un gioco di carte così acclamato all'estero in italia ha faticato ad attecchire in realtà no sono stato personalmente all'evento nazionale svoltosi in quel di roma nel locale i civettoni dove quasi 100 partecipanti si sono contesi il titolo di campione dell'arena e devo dire che rispetto all'anno precedente e a due anni prima ancora il numero di appassionati è letteralmente triplicato in più la lss casa produttrice del gioco sta continuando a sfornare articoli che vanno pubblicazione dopo pubblicazione ad arricchire il già ricco mondo di rate il continente dove le vicende di fab si svolgono se vorrete avere maggiori informazioni a riguardo fatemelo sapere nei commenti prima di continuare se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale così crescendo potrà portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei tcg in più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo instagram dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite molto altro ancora e alla pagina facebook grazie infinite per il supporto torniamo al video ed ora scopriamo assieme qual è lo stato di salute di flash and blood dando il benvenuto a daniele frattarelli del team emperors roma classificatosi in top 8 più precisamente quinto al mondiale del tcg targato legend story studios ciao daniele è un vero piacere averti ospite qui sul canale ciao marco innanzitutto grazie per l'invito e l'opportunità di stare qui a fare due chiacchiere con te spero vivamente insomma che questo video possa aiutare in primis tantissimi nuovi giocatori che stanno facendo adesso il programma di flash and blood e sono veramente felice e contento di parlare con te che sei lo sai per me un professionista ma anche un grandissimo amico partiamo immediatamente con la prima domanda quando ti sei avvicinato alle dinamiche di flash and blood e cosa ti ha colpito di questo tcg rispetto agli altri titoli presenti mercato ho iniziato a giocare nel 2021 venivo da chi forge che tu dovresti conoscere molto bene e niente poi alcune dinamiche tra la pandemia chi forge che ha avuto un po rallentamento tramite un amico sono passato a flash and blood ed è stato praticamente un amore a prima vista e quello che mi appassiona tanto di questo gioco è che tramite la dedizione e l'applicazione riusciamo un pochettino ad abbassare quella che è la varianza nei giochi di carte che lo spesso delle volte è dato dalla pescata no delle carte delle mani quindi questo mi appassiona veramente tanto perché si dovrebbe iniziare a giocare a fab guarda marco io credo che ognuno debba seguire un po quello che è il il proprio stile di gioco perché iniziare adesso se la domanda è questa è perché il gioco è in ascesa in maniera veramente esponenziale basti pensare che james white che è il creatore del gioco ha gli ultimi world championship ha annunciato che il monte premi totale dei tornei garantiti per il 2024 aumentato da un milione a un milione e mezzo questo ci fa capire come il gioco sia in totale ascesa la partecipazione da parte di tutti sia veramente molto attiva e poi mi rifaccio a una delle cose più storiche del gioco il gioco prende il nome di flash and blood che traducendolo diciamo a livello non proprio letterale sta ad indicare proprio l'espressione carne e sangue questo perché il creatore appunto crede tantissimo nell'unione nello stare insieme nella community e quindi vi garantisco che partecipare ad eventi come il world championship da proprio una sensazione di aggregazione di unione è veramente veramente bello andrebbe provato quali sono gli step necessari che si devono affrontare per riuscire a partecipare ad un torneo mondiale prima di tutto assolutamente bisogna qualificarsi e purtroppo non è sempre facilissimo perché i tornei che danno accesso a questi tornei più importanti come pro tour e world championship non sono poi così tanti devo dire che sono aumentati perché con l'avvento dei tornei pti no ovvero appunto proprio professional tournament invitation danno più possibilità di entrare però ecco il primo grande step è proprio quello di qualificarsi che rende se vogliamo il torneo ancora più interessante e particolare perché non tutti possono accedere come per esempio ad un calling dove basta pagare il biglietto d'ingresso per entrare invece nello specifico un po più sul come magari riuscita ad ottenere un risultato del genere io credo che fashion blood sia un gioco che ne c'è come tutti gli altri immagino però che necessita veramente di di tanta dedizione bisogna stare dietro al meta seguire i tornei internazionali ai quali non riusciamo a partecipare cercare di capire quale carta possa spostare o meno la nostra lista per fronteggiare al meglio il meta e però io per chi mi conosce lo sa non mi ritengo un talentuoso ma sono un lavoratore sono la dimostrazione del fatto che con un po di dedizione un po di attenzione si possono ottenere anche dei buonissimi risultati se voglio iniziare a giocare a fab oggi di cosa ho bisogno per essere competitivo ad esempio le carte staple ovvero fondamentali una buona community che supporti il gioco partecipare ad eventi per migliorare la propria tecnica o la scelta di un campione rispetto ad un altro eccetera sicuramente l'approccio al gioco è molto importante e non nasconderò che inizialmente ad un giocatore che approccia il gioco nelle fasi iniziali sembrerà una montagna insormontabile da scalare perché all'apparenza i mazzi possono sembrare diciamo così un pochettino costosi no la cosa buona di fashion blood però è che presuppone un investimento iniziale che poi ritornerà nel tempo faccio un esempio pratico il fatto di poter giocare eroi appartenenti alla stessa classe fa sì che una volta che abbiamo investito inizialmente in dell'equipe delle leggendarie e delle carte che inizialmente ci fanno venire voglia di giocare un particolare eroe poi le potremmo utilizzare quasi sicuramente sul suo speculare compagno di classe quindi questo prevedrà sicuramente l'investimento iniziale però poi questo ritornerà nel tempo ci sono carte per esempio che poi giocheremo per sempre no come non citare la fiendal spring tunic la tunica che è uscita per la prima volta su welcome to rate adesso è già la terza di stampa quindi il gioco sta cercando di mettere tutti nelle condizioni di poter giocare a buoni livelli dopo di che quello che consiglio io è di non disperdersi troppo con con degli eroi identificarsi inizialmente quasi nel mondo cosplayer con un eroe cercare di capirne a fondo le sue abilità e poi se uno volesse approcciare al mondo competitivo a quel punto allora fare lo step successivo che è quello di cercare di capire appunto il meta e cercare di giocare l'eroe che in quel momento è più in meta o come faccio io generalmente giocare l'anti meta non amo giocare l'eroe di punta ma cerco sempre di trovare quell'eroe che può in un qualche modo diciamo sbaragliare quello che è il meta attuale ultimo quesito ma non per importanza qual è il tuo consiglio verso i nuovi giocatori che vogliono muovere i loro primi passi sul reddit come appunto dicevo prima bisogna un attimino lasciarsi andare all'inizio anche se inizialmente si è un po' spaventati dal livello del gioco dei local insomma non 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 vi preoccupate del fatto che magari davanti a voi avete giocatori che giocano da tanto tempo o perché no lasciami dire magari potreste arrivare nel locale dire oddio quel ragazzo ha fatto top pot ai mondiali non vuol dire assolutamente niente il gioco dà tantissime opportunità di diversificazione del gioco e stratificazione dei livelli ci sono tanti limite di draft e siled il formato blitz il formato commoner abbiamo veramente tante tante modalità soprattutto a livello casual che permettono di divertirsi come dicevo prima stratificando veramente i livelli il gioco permette tante applicazioni non per forza bisogna approcciare direttamente al mondo competitivo anzi io quello che è il mio consiglio è quello di lasciatevi incuriosire andate a vedere una partita partecipate ai welcome event della vostra città o del vostro negozio di fiducia fatevi spiegare il gioco inizialmente magari fatevi prestare qualche carta la cosa permettimi Marco veramente bella di questo gioco è la sua community a livello italiano abbiamo veramente un gruppo solido è veramente eh sempre bellissimo partecipare agli eventi internazionali è come una grandissima comitiva che va in giro per l'Europa è veramente una cosa bella bella quindi eh il mio consiglio ma veramente spassionato è quello di lasciarvi trasportare dal gioco eh fatevi prendere dalla curiosità e se vi piace poi dopo piano piano potete fare tutta l'escalation fino a perché no arrivare al mondo competitivo che credo in fab sia veramente veramente ben strutturato grazie infinite Daniele per aver condiviso con noi la tua esperienza e complimenti ancora per il raggiungimento del traguardo che ti ha visto protagonista in prima persona al mondiale di flash and blood grazie a te Marco ancora una volta per l'opportunità eh sai che per me è un enorme piacere parlare con te come ho detto sei sei un amico spero anch'io di di vederci presto e un in bocca al lupo a tutti i giocatori di fab quindi da come abbiamo potuto ascoltare flash and blood continua ad essere giocato e attira a sé sempre più giocatori chissà se questo titolo nel corso degli anni riuscirà ad imporsi fermamente sul mercato dei trading car game i presupposti sono davvero molto buoni non resta altro da fare che aspettare che il tempo faccia il suo corso anche perché a differenza di brand molto più solidi come pokemon yugi o magic fab proprio come quest'ultimo non ha una base di partenza precostruita vedasi il videogame per game boy chi ha gettato le fondamenta per l'ascesa dei mostriciattoli tascabili o il manga che ha visto il faraone duellante più famoso in assoluto nascere dalla penna del maestro takashi fab è una realtà affine a se stessa che è partita dal gioco di carte generando attorno a questo pilastro una serie di lore ne abbiamo trattata qualcuna qui sul canale vi lascerò la playlist qui in alto action figure e accessori vari che sono certo gioveranno alla longevità di questo titolo soprattutto perché durante gli anni ho avuto personalmente modo di vedere un'evoluzione dello stile di gioco davvero degno di nota quindi aspiranti combattenti preparatevi a lottare e affilate le vostre armi mostrando il valore che vi caratterizzerà affrontando sfide sempre più dure tra le polverose sabbie delle numerose arene sparse su tutta raid e voi avete mai provato le dinamiche che muovono questo tcg come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei tcg vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video